Primo convegno per un libro bianco a Civitavecchia, insomma di che cosa si parla in questo primo convegno? Sì, oggi parliamo delle comunità energetiche che secondo noi è un argomento sicuramente d'attualità visto anche per esempio i rincari energetici per la dipendenza del nostro paese dagli altri da questo punto di vista quindi noi abbiamo scelto una tematica ambientale legata alle comunità energetiche perché pensiamo che sia per Civitavecchia sia per il paese sia un argomento che va affrontato subito e che debba offrire soluzioni sia al nostro territorio, quindi Civitavecchia sia a tutto il paese e per questo abbiamo chiesto a persone di tutta Italia, quindi a livello europeo, a livello nazionale, a livello regionale di intervenire e di illustrarci le eccellenze e le cose virtuose che ci sono in giro per il mondo per fare in modo da creare un progetto che tutte le forze politiche del nostro territorio possano inserire nei propri programmi per garantire un percorso di crescita alla nostra città abbiamo invitato il sindaco, le forze di maggioranza, di minoranza, quindi assolutamente apartitica vuole solo individuare un percorso che vada oltre le differenti visioni che le forze politiche hanno del territorio quindi andare a creare quello che come ho detto prima sarà un percorso garantito di crescita per la nostra città è questo che noi vogliamo provare a fare, siamo sicuri che chi vuole bene alla città lo farà insieme a noi Noi siamo stati invitati come un'associazione non a scopo di lucro, di promozione sociale Italy Carbon Free che nasce a Procida, poi si è stessa in tutta Italia nasce a Procida nel momento in cui un gruppo di cittadini decidono di fare qualche cosa per cercare di migliorare le condizioni climatiche in generale, lanciare un grido nel mondo oggi vantiamo 40 patrocini di comuni che hanno patrocinato l'iniziativa e stiamo inaugurando il primo polo della transizione ecologica sorretto da società sponsor nazionali e europee e insomma perseguiamo due obiettivi fondamentalmente la costruzione delle comunità energetiche nei piccoli comuni quindi assistiamo i piccoli comuni a realizzare, a capitalizzare queste leggi virtuose e soprattutto accelerare i tempi della decarbonizzazione noi ci ispiriamo sicuramente al Green New Deal che prevede due scadenze 2030 e 2050 rispettivamente 60% e 100% di riduzione delle emissioni di CO2 per i piccoli comuni si può operare in modo ancora più virtuoso accelerando, contraendo questi tempi e appunto realizzando anche dei benefici economici per i territori per i piccoli comuni